Aumenta il numero di bambini non vaccinati in provincia di Como. Si parla di cifre non allarmanti, la copertura resta elevata ma la preoccupazione c'è. Siamo sempre attorno al 90-95% ma il dato è in costante calo, ammette Lorella Cecconami, direttore sanitario dell'ATS Montagna, la ex asla di Sondro, nella quale da gennaio è confluito il distretto medio-altolario, che rinnova l'appello. Questa forma di prevenzione primaria è un'opportunità di salute fondamentale ed è un gesto di responsabilità nei confronti del singolo e della collettività. Vaccinate i vostri bambini, aggiunge il medico. Le vaccinazioni sono diminuite in Italia e la provincia di Como non fa eccezione. Stando alle cifre diffuse dall'ATS e dell'Insubria, la ex asla, tra i nati negli 2013 il 95% ha completato il ciclo vaccinale dell'esavalente, ovvero difterite, tetano per tosse, epatite B, emofilus, influenze tipo B, foliomelite e il 90% ha ricevuto il farmaco che protegge da morbillo, parotite e rosolia. I nati nel 2014 sono stati sottoposti per il 92% alla prima dose del vaccino anti-pneumococco, mentre la prima dose del vaccino anti-meningococco C, che interessa i bimbi nati nel 2012-2013, ha avuto un'adesione dell'83%. I bambini, completamente inadempienti al ciclo di base delle vaccinazioni dell'infanzia, sono passati da 42% per i nati nel 2010 a 63% per quelli venuti al mondo nel 2013. Nel 2014 sono stati 66% quelli che non hanno effettuato alcuna vaccinazione. Per quanto riguarda il distretto del Medio e Alto Lario, in base ai dati dell'ATS Montagna, nel 2015 la copertura per l'esavalente è stata del 95,7%, mentre il dato della prima dose del farmaco trivalente si ferma al 90,7%. La preoccupazione c'è, dice Cecconami, il calo della copertura vaccinale si sente in particolare per l'antimorbillo, le vaccinazioni poi pagano lo scotto della loro efficacia, continua la direttrice sanitaria, le malattie sono scomparse grazie alla prevenzione e non si ha più la percezione del rischio di patologie, quali ad esempio la poliomelite o la difterite. Si pensa che non ci sia più la necessità di proteggersi, invece laddove si abbassano le coperture la malattia si ripresenta, dice ancora la dottoressa. Se la copertura scende sotto il 95%, viene meno la cosiddetta immunità di gregge e cresce di pari passo il rischio di un'epidemia. I genitori ripetono tutti le stesse motivazioni standard, spesso arrivano con moduli stampati da internet, a tutti, conclude il medico, ripeto l'appello a vaccinare, un atto di responsabilità verso il bambino e l'adulto, ma anche verso la collettività in cui si vive.